Da pochi mesi ho l'opportunità di vivere questa straordinaria esperienza al Parlamento europeo. Sono un romagnolo, chi mi incontra, mi sente, capisce subito dal mio accento inconfondibile la mia provenienza. Questo non crea difficoltà e problemi nelle relazioni, anzi apre degli spazi. Noi romagnoli siamo per natura accoglienti e capaci di relazionarsi con gli altri e col mondo, viviamo del resto di ospitalità. L'area vasta Romagna, la città metropolitana della Romagna, è un territorio di oltre un milione di abitanti. Pensiamo che uno degli stati membri dell'Unione europea, penso all'isola di Malta, ha 400.000 abitanti. Quindi abbiamo le spalle robuste come romagnoli, anche adesso con la fine delle province, la necessità di collegarci e aggregarci per giocare la nostra sfida anche a livello europeo. Dobbiamo attrezzarci, dobbiamo lavorare per un piano strategico unico, comune della Romagna, da proiettare in Europa per chiedere risorse, finanziamenti e opportunità. Noi romagnoli abbiamo messo in comune tanti servizi, penso al suo tempo all'acqua, Romagna Acqua, penso alla sanità unica. Oggi direi di concentrarci sul tema dei collegamenti dei trasporti e su un rilancio forte del turismo. L'idea della Wellness Valley è un'idea vincente, rispecchia bene la natura del nostro territorio, bacino turistico, enogastronomia di qualità. Abbiamo bisogno però di collegare meglio, integrare meglio la Romagna, quindi un piano strategico. Noi ho prodotto anche per aiutare i romagnoli in questo sforzo una guida ai finanziamenti europei, credo che sia uno strumento utile, ci sono le risorse e sono indicate anche le modalità per accedere a questi fondi. In questi mesi di attività ho cercato di seguire anche concretamente alcuni problemi della nostra terra. Penso al turismo, dicevo al tema dell'erosione costiera, cioè come l'Europa può intervenire rispetto ad un tema che interessa direttamente la nostra spiaggia. Tutti gli anni dobbiamo rifare, e sono soldi, pezzi di spiaggia. Penso al tema delle concessioni balneari, la direttiva Bolkestan, che costringerebbe, se non si interviene, con giudizi, con criterio, a mettere all'asta le concessioni balneari e quindi a mettere in difficoltà tutto il sistema delle piccole e medie imprese, a gestione familiare che garantiscono sicurezza e qualità alla nostra offerta di spiaggia. Penso ai temi della pesca, alla questione di cui si è parlato più spesso, la dimensione delle vongole. Sono norme che vanno bene per i mari del nord, che hanno il mar Baltico, dei fondali molto profondi, il mare Adriatico ha altre caratteristiche per cui anche le leggi sulla pesca devono tener conto della natura, della nostra economia, che è fondata soprattutto sulle piccole e medie imprese. Penso alla necessità, cosa che stiamo facendo, di difendere il made in Italy, in particolar modo tutelare i nostri prodotti, all'agroalimentare di qualità. Penso anche ad altre passioni che caratterizzano la nostra terra. Per chi ha questo interesse, la caccia allo storno, per esempio, questi sono animali che stanno rovinando le nostre culture e abbiamo delle regole anche da questo punto di vista assurde. Ci vuole un approccio più rispettoso dell'ambiente, della natura e della biodiversità, ma più razionale e ragionevole. Quindi la Romagna ha tutte le carte in regola per fare un salto di qualità e per proiettarsi, ripeto, a livello europeo e vincere la sfida dell'innovazione e del cambiamento. Se come romagnoli non sfruttiamo queste opportunità è colpa nostra. Non stiamo a dare la colpa ad altri, non stiamo a dare la colpa all'Emilia, alla regione Matrigna, non stiamo a dare la colpa all'Europa. Prendiamoci le nostre responsabilità e mettiamoci in gioco tutti insieme.